Dai cancelli dell'azienda alle aule giudiziarie è iniziato il contenzioso legale tra GKN e la FIOM CGL che ha portato di fronte ai giudici del Tribunale di Firenze la proprietà dello stabilimento di Campi Bisenzio con l'accusa di comportamento antisindacale. Davanti al giudice del lavoro, da remoto hanno esposto i fatti gli avvocati delle parti, lo studio Bellotti per la FIOM e gli avvocati Francesco Rotondi e Alessandro Paone per l'azienda. Secondo quanto emerso, la FIOM ha presentato un articolo 28 contestando l'atteggiamento di non buona fede dell'azienda nei confronti del sindacato e delle RSU, in quanto per mesi la proprietà ha nascosto la volontà di cessare l'attività produttiva nello stabilimento di Campi, arrivando a darne notizia quando la fabbrica era chiusa nel giorno di ferie concordato da tempo con lo scopo di avere una tranquilla situazione aziendale. L'udienza arriva 13 giorni prima della scadenza del 22 settembre, quando la multinazionale potrà inviare le lettere di licenziamento ai 422 dipendenti e nove giorni prima della manifestazione che i lavoratori stanno organizzando a Firenze per il 18. Dopo la fumata nera al tavolo ministeriale con le istituzioni, quella nelle aule del Tribunale pare l'unica possibilità per lavoratori e sindacati per prendere tempo e studiare una nuova strategia.